Eisa González aveva smentito la sua love story con Guy Bin Eisa González aveva smentito la sua love story con Guy Bin O anche amici maschi, aveva scritto su X per ribadire il concetto e allontanare le voci che la davano impegnata sentimentalmente con il modello Ex storico di Eleonora Bin In sé è stato legato alla figlia di Silvio Berlusconi per 11 anni e insieme hanno avuto tre figli, Riccardo, Flora e Art A Londra, dove vive, è stato paparazzato con l'attrice della serie di successo Netflix Il Problema Date Le immagini sono chiare, non sono solo amici Si abbracciano, si baciano e sembrano molto Eleonora e Guy Vivano vissuto la loro relazione in maniera molto ris E la notizia della loro separazione è arrivata praticamente come un fulmine a Chelsea Era maggio 2022 quando Diva e Donna rivelò che Bin s'aveva tradito Da quel momento nessun nuovo aggiornamento sulla loro relazione fino a quando, nell'agosto dello stesso anno, fu il settimanale chi a mostrare la prima estate da single di Eleon Le immagini di Bin s che bacia un'altra donna Parco Sempione era scontato che suscitassero una reazione in Eleonora, ma non erano in molte ad aspettarsi addirittura una separazione, ma così è stato